Salve ragazzi, rieccoci. Allora, oggi è un mio giorno davvero molto speciale. Oggi ho raggiunto su YouTube 800 iscritti tonditondi. Io voglio ringraziare a tutti i miei fan che si sono iscritti al mio canale YouTube, di avermi fatto raggiungere 800 iscritti belli tonditondi tondi. Io non so cosa dire per questo mio canale YouTube. Ho fatto tutto il possibile per raggiungere questo traguardo e ringrazio di cuore a tutti con vero affetto. E non vedo l'ora di raggiungere un altro bellissimo traguardo, che sono quelli dei 900 iscritti. Ragazzi, se volete, commentate qua sotto per ringraziarmi che ho raggiunto questo traguardo. Lasciate anche un bel like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Se siete appena iscritti, cliccate subito la campanella per non perdervi altri miei prossimi video che usciranno. Seguitemi sia su Facebook che anche su Instagram. Che dire, ci vediamo molto presto per i miei prossimi video e stasera video dei pronostici che domani inizierà il campionato di Serie A. Ciao belli!